Amici amiche di RBA, buongiorno, buongiorno da Cavour, amici amiche all'ascolto, in visione del canale 87 del digitale terrestre nelle province di Asti, Cuneo e Torino e siamo in provincia di Torino, siamo a Cuneo, sulla strada delle mele del Pinerolese, andiamo a scoprire storie di questa strada meravigliosa, di questo progetto culturale che esalta la mela, la mela al centro ovviamente di tutto mele, non solo mele, avremo modo di scoprire tante storie intorno a quell'amore per la terra, per il terreno, territorio che vi mostriamo partendo da cosa? Partendo dagli amici e dalle amiche della Scuola Malva Arnaldi, abbiamo con noi una delle persone che si occupa di progettazione e comunicazione, Alessandra Neve, Alessandra buongiorno, 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 grazie Claudio, a tutte e a tutti. Scuola Malva Arnaldi, mi piace molto il sottotitolo, diciamo così, sottotitolo, ma lo è in qualche modo, vero Alessandra, microfono vicino, ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, quindi è una scuola oppure puntate più che altro alla divulgazione e alla formazione intorno all'agricoltura, di cosa si occupa Scuola Malva in breve? Quello è il bello e anche il complesso dell'attività di Scuola Malva perché da sempre ci occupiamo di mele, da sempre ci occupiamo quindi di sperimentazione in agricoltura, quindi la nostra parte di agricola è molto importante, contemporaneamente però i colleghi in campo fanno anche molta sperimentazione e negli anni la parte formativa è stata molto importante. Noi insomma ci conosciamo come Scuola Malva da anni, partecipate a Tutto Mele ed è una bella realtà del territorio, di questa strada delle mele che fa un po' da fil rouge, le mele sono anche rosse, effettivamente ci sta, quindi la mela rossa, il fil rouge di questa Tutto Mele, ci siete anche voi come Scuola Malva ormai da diversi anni, divulgazione, formazione e ricerca, ricerca di che tipo? Beh innanzitutto si tratta di mantenere, conservare, ricercare quello che è la varietà locale, le varietà locali di mele che presenti sul nostro territorio, sono tantissime anche se negli anni sono diminuite perché sappiamo il mercato è cambiato ma sono tantissime e noi ci occupiamo di una cosa che secondo noi è preziosissima che il territorio ha che è il Conservatorio della Biodiversità. Aspetta, 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 il Conservatorio della Biodiversità, Alessandra, di cosa si tratta? Perché giustamente parli di mele al plurale, Tutto Mele è anche questo, perché non c'è solo un tipo di mela in effetti, è neanche un colore solo, in realtà ci sono tantissime, quante sono? Soprattutto cos'è? Un archivio questo Conservatorio, di cosa si tratta? È di fatto un museo vivente, quindi noi conserviamo nel nostro campo collezione piante vive, quindi è un museo di piante vive di fatto che si possono visitare e che riproducono le varietà, noi ne abbiamo più di 400, qui a Tutto Mele potete vederne tantissime perché i produttori le hanno, alcune sono coltivate ancora e commercializzate, alcune sono varietà internazionali, alcune sono proprio varietà autoctone e locali. 400 varietà di mele, quindi potete capire e immaginare amici e amiche di RBA quanto sia importante questo lavoro per esaltare e per tenere ben presente questo aspetto, immagino, sia questo uno degli obiettivi Alessandra? Assolutamente perché chiaramente alcune mele sono adatte più a fare un certo tipo di prodotto, per esempio il succo di mele che trovate qui alla fiera, alcune sono naturalmente buone da mangiare fresche, alcune invece anche tradizionalmente venivano conservate e avevano una durata molto più ampia e alcune sono ottime da fare ovviamente cotte e trasformate. Le mele cotte, le pere cotte, abbiamo insomma, qui tra poco vi mostreremo anche i prodotti che abbiamo nel tavolino qui vicino alla nostra postazione e mi riferisco soprattutto a coloro che in questo momento ci stanno guardando in tv e su rbe.it. La scuola Malva è sostenuta da tanti comuni, quindi è una realtà territoriale consolidata da tanti anni, è una scuola ma in realtà è più che altro una fondazione, se ho capito bene? Esatto, noi siamo una fondazione, un ente del terzo settore, tra l'altro da pochissimo, da qualche anno abbiamo cambiato ragione giuridica e grazie al fatto che i comuni, il nostro territorio crede nel nostro ruolo. Ci conoscono le scuole, spesso le scuole vengono a trovarci, spesso noi andiamo nelle scuole e nei comuni e siamo presenti a molte rassegne locali. Come tutto mele appunto. La scuola Malva si trova in via San Vincenzo 48 a Bibiana, c'è il sito scuolamalva.it, sono tanti progetti che vi riguardano, abbiamo parlato di alcuni, c'è uno in particolare che abbraccia, un territorio che sta sotto, a me piace molto la parola, proprio la parola con la P maiuscola, Piemonte, Piemonte vuol dire il pie dei monti, il monte in particolare, il monte che disegniamo fino a bambini è il Monviso, lo disegniamo fino a piccoli da piccoli è il Monviso, è la montagna perfetta e so che intorno a questa montagna perfetta ci sono delle attività che vi riguardano da vicino, ti piace il collegamento che ho fatto? Sono arrivato fino a Monviso, Alessandra. Ma sì, perché è proprio così. È così alla fine, allora ci ho preso. Il nostro ruolo è anche quello di aggregare i produttori, di portare la voce dei produttori al territorio e alle istituzioni e il progetto a cui aderiamo, che è quello di Biodoc Monviso, ci permette di farlo, perché? Perché in realtà porta la voce di chi produce, dei piccoli agricoltori che stanno a cavallo tra il Pinerolese e il Saluzzese, facciamo tutte le valli, copriamo tutte le valli fino alla Valgrana, ed è in realtà appassionante anche vedere quanta varietà ed eterogenità e quindi biodiversità c'è all'interno di questo gruppo di produttori che sotto il cappello del Biodoc portano tutte le loro caratteristiche e peculiarità all'ombra del Monviso. Biodoc Monviso, io pensavo che Doc si riferisse alla denominazione d'origine controllata, ma non solo. No, 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 non solo, non solo. Biodoc perché gli agricoltori hanno la certificazione biologica, Doc perché? Perché prendiamo il territorio dell'Occitania, quindi abbiamo un forte legame con la storia e la cultura tradizionale e ci sono moltissimi giovani che lavorano veramente per portare prodotti di qualità attenti sia all'ambiente che alla salute e i consumatori ci dicono che sono sempre più attenti a questo tipo di produzione che è locale, ma che in realtà mettendoci insieme, facendo massa critica, secondo noi può veramente dare al territorio qualcosa di molto particolare. Guardando nel volantino che ho qui tra le mani in questo momento, leggendo una delle definizioni di Biodoc Monviso, oltre 100 aziende, oltre 100 aziende biologiche della terra di Monviso che va appunto, come dicevi, dalla Valle Stura a Valle Grana fino alla Val Chisone, insomma, un bel paniere, un grande paniere che abbraccia terre e saperi e sapori, direi. Ecco, c'è anche una domanda, che in realtà è un'affermazione più che altro, perché c'è un perché senza punto interrogativo. Biologico perché? Potrebbe essere davvero il futuro questo? Può essere uno dei futuri? E come esaltarlo? Si parla molto di biologico, ma il vero biologico? Noi pensiamo, in realtà, ci piacerebbe che tutti gli agricoltori diventassero biologici, ma perché? Perché semplicemente gli agricoltori che credono nel lavoro che fanno, che sono attenti alla pratica agronomica e alla salute del cibo, in realtà rispettano questo mestiere, che è antico, ma che ha delle potenzialità enormi. Non stiamo dicendo che non facciamo trattamenti, non stiamo dicendo, naturalmente, che non vogliamo innovarci, stiamo semplicemente dicendo che vogliamo, in linea tra l'altro con gli obiettivi di Agenda 2030, vogliamo produrre un cibo buono, sia per noi che per l'ambiente. Un cibo buono come quello che abbiamo qui con noi in questo momento, beh, quando parliamo di Fondazione Malva, parliamo di vino, ovviamente, lo possiamo fare altrimenti. Questo è un rase veie? Rase veie, non possiamo... Mi sono arrampicato nel piemontese, sono diversamente piemontese, pazienza. Non possiamo non citare lo spumante metodo classico che i miei colleghi sapientemente producono e che è uno spumante che appunto ha lievitazione sui lieviti per più di 24 mesi. E poi abbiamo parlato di Biodoc, qui abbiamo diversi prodotti realizzati, come ad esempio il nettare di mirtilo, questo è il succo di pere, di cui abbiamo parlato prima, terre alte d'Occidente, quindi queste pere arrivano, sono certificate, garantite di provenienza delle valli. Assolutamente, sì, 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 il territorio del Biodoc, stiamo formalizzando la candidatura a Regione Piemonte come distretto del cibo e quindi le aziende che aderiscono sono tutte residenti e hanno tutte le produzioni qui sul nostro territorio, l'elenco dei comuni è importante e sono più di 100 aziende. Spaziamo moltissimo del tipo di prodotti perché si parte... Anche le creme viso? Sì, assolutamente, ci sono anche piccole aziende che fanno cosmetica, ci sono i legumi, ci sono le farine, stiamo veramente raggiungendo, c'è la mela non può mancare ma ci sono appunto anche i cereali, insomma, tenete d'occhio la pagina. Ecco, c'è la pagina di Scuola Malva ma c'è anche il sito biodocmonviso.it, questo è il sito, mi immagino che siate presenti anche sui social, Facebook e Instagram, biodocmonviso. Qui a Tutto Mele, per chiudere il nostro intervento, Alessandra, come Biodoc e come Scuola Malva, avete qualche evento in particolare ancora in questi giorni di rassegna? Sì, sì, allora per Biodoc il venerdì prossimo c'è la presentazione del prosciutto crudo, quindi vi consiglio di partecipare se avete voglia di assaggiarlo e oggi pomeriggio alle 18.30 alla pagoda presentiamo un altro progetto a cui partecipiamo che è il progetto Salumi Liberi, è un progetto dove Capofila è age in forma per una misura del PSR, partecipano anche altri partner, l'Università di Torino, l'Università Orientale, l'Istituto Zooprofilattico, perché hanno pensato di fare delle prove di trasformazione della carne per produrre salumeria con un ridottissimo uso di conservanti, quindi oggi pomeriggio assaggiamo il prosciutto cotto che è il risultato delle prove di sperimentazione. Bene, bene, quindi Scuola Malva è anche questo. Scuola Malva Arnaldi, scuolamalva.it, questo è il sito, Biodoc, il progetto che abbraccia le valli dalla Valle Stura Vallegrana fino alla Val Chisone che salutiamo amici della Val Chisone, amici e amiche e salutiamo ovviamente Scuola Malva, Biodoc Monviso, tutte le aziende, i centroproduttori e produttrici che rendono possibile questa bella iniziativa. Alessandra Neve è con noi, grazie Alessandra per averci raccontato e averci accompagnato del dietro le quinte di questi bei progetti. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie a tutti.